Sono chiaramente contento per la vittoria, oggi l'obiettivo era quello di dare continuità alle due vittorie precedenti, l'obiettivo era quello di affrontare i chiusi con grande rispetto, con concentrazione, senza commettere l'errore di pensare alla prossima partita e un obiettivo all'interno della gara era chiaramente con la speranza di poterlo fare gestendo un po' tutti i giocatori, parlando di una settimana particolare con due viaggi che faremo, tra l'altro anche impegnativi, con una partita infrasettimanale, quindi diciamo che da questo punto di vista sono contento. Chiaramente all'interno della partita ci sono state cose che mi sono piaciute, altre che mi sono piaciute meno, mi dispiace per i 5 minuti finali, per il parziale ricevuto, dove chiaramente per mentalità dobbiamo affrontare in maniera diversa, però nel complesso soddisfazione per una partita controllata e vinta come volevamo. Abbiamo ruotato tanto come di nostra abitudine e siamo riusciti anche a trovare soluzioni diverse, tra l'altro in una partita che in virtù delle assenze di Chiusi è diventata una partita molto ma molto tattica con delle difesa zona che si alternavano, cose anche proposte da Chiusi questa sera per la prima volta e quindi c'è stata anche la necessità per la squadra di adattarsi a dover leggere delle situazioni che chiaramente non avevamo allenato perché Chiusi non le aveva mai fatte vedere. A volte l'abbiamo fatto bene, a volte un po' meno, però ripeto, l'importante era arrivare nel quarto finale senza ansie e aver potuto gestire un po' tutti i giocatori mi rende ancora più felice al di là della vittoria, chiaramente che è importante. È stato molto bravo, ha tirato con percentuali molto alte e sicuramente ripeto, è un giocatore che ha la capacità di crearsi un tiro come ha fatto in un momento particolare nel secondo quarto, anche togliendoci un po' dalle difficoltà e è capace di coinvolgere i lunghi, ha una doppia dimensione perché ha dimostrato anche oggi che può attaccare l'aria, può tirare da fuori, quindi lo abbiamo aspettato tanto, siamo convinti che ha le caratteristiche giuste per la nostra squadra, è chiaro adesso l'obiettivo sarà aumentare la sua forza nelle gambe per un minutaggio superiore, bisogna avere pazienza perché chiaramente questo processo non può essere immediato, solo il ritmo partita lo porterà ad avere come tutti gli altri la possibilità di giocare, di essere utilizzato in base alle mie scelte e non per la sua disponibilità di energia. La voglia comunque di provarci sempre, che secondo me nel lungo periodo poi ci darà dei vantaggi e anche la convinzione che questa squadra possa crescere sotto tanti punti di vista, quindi è chiaro che adesso Udini arriva troppo presto, però sono convinto che faremo la nostra gara, è chiaramente un test importante perché probabilmente una trasferta contro quella che è la candidata numero uno, non solo per il roster a disposizione ma soprattutto perché sono già 2-3 anni che si sta costruendo un percorso e quindi andare fuori casa è un test importante, sono il primo ad essere curioso di capire che partita riusciremo a fare e quindi serenamente prepareremo la partita e andremo a Udine per fare il meglio possibile. Credo che ci sia stata una reazione però alla fine la reazione poi spesso sono i risultati a determinarlo perché per assurdo, sono onesto, magari abbiamo vinto con grande determinazione in difficoltà vista poi anche l'assenza in corso di Cincerini contro 100 su un episodio tra virgolette fortuito anche se poi bisogna mettersi nelle condizioni di vincerlo, però se ripenso magari alla partita di Ferrara con un po' più di fortuna avremmo potuto vincere una partita dove non dimentico che eravamo senza Sanford, eravamo senza Nathan e senza Fabio Valentini, quindi questo per dire che secondo me nelle tre sconfitte non è che era venuta meno la voglia o l'atteggiamento, è chiaro che la squadra non è stata così brava a sopperire le assenze e soprattutto mentalmente a non avere la forza di interpretare nella partita giusta la partita di Cividale che però prima vedevo che giocava appunto a due minuti dalla fine, ha vinto con Udine, quindi poi anche quella partita lì bisogna riconoscere che abbiamo perso contro una squadra che sta dimostrando tutto il proprio valore e quindi bisogna anche riconoscere i meriti degli altri, però sono d'accordo, sicuramente c'è stata soprattutto a livello mentale ed era importante dopo tre sconfitte ripartire ecco per una questione di fiducia e la partita di Cento da questo punto di vista è stata importante, non lo nego, è chiaro che quell'episodio lì poi ti dà la forza di andare a Sansevero ed affrontare questa partita con una serenità diversa, è la cosa bella a volte crudele del basket che ti dà e ti toglie. Nel finale c'è da dire che poi nel finale spesso Chiusi ha giocato con quelli molto piccoli e quindi più che altro era una percussione di accoppiamenti però sono contentissimo della partita di Lorenzo, ha dato continuità quella precedente di Sansevero quindi il minutaggio non è, in più c'è da dire che negli ultimi 6-7 minuti poi siamo andati su una rotazione che magari è andata a togliere un po' di minuti ai giocatori che di solito vengono utilizzati quindi magari questo un po' nel finale è un po' alterato però per il resto nessun problema.